Il gran caldo sta producendo i suoi effetti anche nella maturazione delle uve negli oltre 1.500 ettari di vigneti liguri. Per questo motivo la Giunta regionale ha approvato il calendario dei viticoltori, predivedendo l'avvio della vendemmia a partire dal 4 agosto e fino al 15 novembre. L'assessore regionale dell'agricoltura Stefano Mai ha evidenziato che i vigneti che erano maggiormente risentito del caldo sono quelli posizionati lungo la costa. In queste zone la vendemmia dovrà essere anticipata per forza di cose. Allo stesso modo è stata concessa la prosecuzione della fermentazione per i vini passiti, in primis lo Chaguetra delle Cinque Terre. Le aziende vitivinicoli in Liguria sono 3.976 secondo il censimento generale dell'agricoltura del 2010, ma sono solo 1.800 quelle realmente sul mercato con le loro etichette, nella stragrande maggioranza appartenenti a piccoli produttori. La superficie coltivata vigna è di 1.515 ettari, di cui 804 è denominazione di origine e 65 è indicazione geografica. Il sistema qualità della vitivinicoltura Ligure si esprime in otto denominazioni di origine, Ormeasco di Pornassio, Rossese di Dolceacqua, Riviera Ligure di Ponente, Val Polcevera, Golfo del Tiguglio e Portofino, Colline di Levanto, Cinque Terre e Colli di Luni. Vi sono poi 4 indicazioni geografiche, Liguria di Levante, Colline del Genovesato, Colline Savonesi e Terrazze dell'Imperiese.